Il mercato ambulante si trova un po' in un bivio attualmente perché c'è un po' una crisi, una stagnazione. Per esempio i consumatori lamentano un po' un calo dell'attrettività, dell'atmosfera, poi anche sentono che la merce è sempre un po' più omogenea, meno interessante di forse era una volta e poi i commercianti stessi si sentono smarginati un po', sono spinti verso la periferia e così non possono anche funzionare nel modo che dovrebbero. Ma il fatturato si è diminuito negli ultimi anni o si è aumentato? Quello non proprio abbiamo analizzato, se proprio il fatturato medio si è calato o no, non potrei dire. Sicuramente è da pro, è da vedere adesso che il futuro non si diminuirà, altrimenti in questa crisi forse anche sempre più clienti non poi ci verranno meno. Qual è il fatturato medio? Il fatturato medio è circa 100.000 euro per un commerciante tipico. Ma non si sa quanto altro è l'utile alla fine? No, non si sa perché ci sono diversi costi, soprattutto per l'approvvigionamento della merce, però anche i costi per esempio per portare la merce su tutti i mercati, in tutto il Nato Adige.